Si riparte con gli spettacoli teatrale. Che stagione sarà e come i teatranti si organizzano alla ripartenza? È una ripartenza un po' complicata, soprattutto per le sale piccole, per le compagnie piccole, che magari non hanno ancora chiaro come se riusciranno a rispettare le norme. Comunque speriamo che la situazione migliora sempre di più e quindi sia veramente un giorno di festa. Ma come si fa a mantenere il distanziamento sociale sul palco? Succedeva anche prima, può capitare, di avere uno spettacolo in cui gli interpreti non si toccano e che rispettano tutte le altre norme. Diciamo che se la situazione è temporanea, il più temporanea possibile, può andare bene. Poi è chiaro che bisogna ritornare al teatro di prima perché il teatro deve essere un luogo, deve essere una festa, una festa dei sensi. Ma come in molte altre categorie chiaramente abbiamo dovuto rimettere in discussione tutti i programmi per il futuro. Quindi la cosa principale è stata questa. Poi le difficoltà di solito sono un volano per trovare nuove soluzioni, per stimolare la creatività. Quindi probabilmente anche nello sconforto qualcuno avrà avuto delle buone idee, sia di scrittura che di creatività. Lo spettacolo, il nostro spettacolo Troia City, la verità sul caso Alexandros, che è una sorta di narrazione di giallo ispirato a dei frammenti di una tragedia euripidea andata perduta. Andremo in scena al Napoli Teatro Festival il 7 e l'8 luglio al Bosco di Capodimonte e il 25 luglio al Kilowatt Festival in provincia di Arezzo.